Evade nonostante la sorveglianza. Un detenuto 31enne di Bitonto nel Barese che deve scontare una condanna per rapina fino al 2015 è evaso la notte scorsa dagli ospedali riuniti di Foggia, dove era appiantonato nel reparto di chirurgia d'urgenza. Malgrado le sue condizioni di salute che lo avevano portato al ricovero per imminente pericolo di vita e ad essere sottoposto ad un intervento chirurgico una decina di giorni fa, il 31enne è riuscito a deludere la sorveglianza della polizia penitenziaria. A darne notizia il SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, nella nota infatti segretario nazionale Federico Pilagatti, sottolinea che da anni viene chiesta l'apertura di un reparto blindato nell'ospedale di Foggia che consenta di piantonare i detenuti in sicurezza. Il sindacato sottolinea inoltre che il detenuto evaso era ricoverato insieme con un altro paziente e che la sua fuga avrebbe potuto mettere a repentaglio la sicurezza dell'altro ammalato. Pilagatti infine denuncia la carenza di uomini per le scorte e i piantonamenti dei detenuti. Per piantonare il detenuto evaso infatti la previsione della scorta era di tre uomini mentre ne erano presenti due.